Siamo in campagna, un ragazzo giovane, bello, che ha un d'occhio azzurro, vede passa una vecchiettina, ha una gallina sotto il braccio che la regge così, e gli fa, signora che bella gallina, che me la dà per 10 euro? Questa te rimane un po' così poi gli fa. Aspetta, posso la gallina, poi te la do anche a gratis, se vuoi.